Pippo, Pippo, vieni qua papà, Pippu, Pippu, Pillo, ma che testone sto carico, peggio del padrone, del papà. Quella notte, che notte, potevo fare altro invece, ecco cosa mi è toccato, un pesto, guardate che bello sto Pino, fantastico. Dai, i pini di Pinerolo sono speciali, fantastico, veramente un bel Pino. Praticamente questo è il classico Pino di Natale, però gigante, però le forme sono proprio del Pino. Immaginate questo Pino, più o meno di due metri, due metri e trenta, che bello allora di Natale sarebbe. Sarebbe bello questo qui perché li tagliano e li portano davanti, mi regalano al Vaticano, mi mettono davanti al Vaticano, poi tutti gli anni c'è sempre un paese o una regione d'Italia che manda i pini al Vaticano per Natale. No, no, questo comunque è meglio che non lo mandano, perché lo lascio pure qui. Questo è l'altro giardino, sempre vicino a casa mia. Questa ora non ce n'è solo perché quest'ora in Italia si mangia. E quando è l'ora di mangiare in Italia sono seri. Andiamo giù. Qui siamo leggermente in alto, no? No? Leggermente. Questo non andiamo giù. Siamo giù. Andiamo a recuperare il peppuccio. La bestia. Non te lo dico. Te lo scrivo. Questa volta. Questa va? Ok. 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 Grazie. Grazie. Pippo. 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 Vieni qui, vieni qui, pipo, ma è cieco, oh sordo, vieni un po' qua, sono qui, Asma, sono qui papà, vieni, qua, qua, vieni, qui, 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 oh, pipo, ma è deficiente, vieni qui, sono qui, c'è così che si perde lui, non vedo, non sento, non mi trova e mi cerca, basta che ti distrai, sono qui, fai già, vieni, dai cammina, segui, segui, vieni qua, cammina, vieni un po' qua, ehi, ehi, pipo, sono qui, vieni qui, cammina, vieni, Figعةugh, vuoi andare sull'altra arena, il pupetto, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.